ciao giovani ciao giovani ciao meno giovani ciao ragazze ciao ragazzi buongiorno a tutti oggi sabato 10 giugno attendo che siate collegati intanto guardando la finestra vedo un tempo cupo un tempo altalenante pioggia sole sole pioggia pioggia sole non ne posso più mi piacerebbe vedere il sole normale oppure la pioggia e basta ma qua c'è sempre un non sai come vestirti non sai come e come comportarti cosa fare cosa non fare il tempo ormai è incerto chissà perché chissà perché il tempo cambia così in modo repentino magari potrebbero centrare quelle cose strane che vediamo in cielo quelle righe dritte lo faccio per creare un po di chiaramente un po ciao laura perla un po di discussione ovviamente mi diverto anche a creare discussione anche se come dico sempre il dubbio è lecito buongiorno inizio a vedere i primi collegati adesso andiamo a vedere con se l'algoritmo ha inviato la notizia è chiaro che sono partito con le scie quindi potrebbero dire robbi giusti hai leggermente rotto le scatole perché la verità non va detta mai 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 e poi mai vedo i primi collegati buongiorno ragazze come vedrete dal titolo ho dedicato la pagina iniziale all'articolo che ha buttato fuori il giornale meloni a ruota libera dove ha demolito di ha spiazzato tutti demolendo totalmente l'elie gilene ciao enrico sanguinetti buongiorno joan ciao grazia ok inizia a vedervi inizia a vedervi vediamo se riesco a vedere eccoci qua riesco a vedere l'online si è arrivato il messaggino sta arrivando attendiamo qualche istante poi daremo le notizie buon sabato mattina a tutti e a tutte soprattutto a tutte soprattutto a tutte joan calo clemente buongiorno mi dice calo a nuvolosità con schiarite anche a taranto è altalenante temperatura 20 gradi più o meno come da noi vento di scirocco grazie calo clemente nostro inviato in puglia nostro inviato meteo in puglia ormai più seguito lui che le meteorine del tg5 bisognerebbe far risparire tutti caro robbi luca arsini stai buono però ti capisco ti capisco caro ti capisco vabbè andiamo con le notizie andiamo con le prime pagine di oggi a prescindere dalla gente collegata in tempo reale intanto lo sappiamo ormai che fanno collegare chi vogliono loro quando vogliono loro come lo dicono loro quindi inutile stare impazzire e aver tanti collegati subito è meglio che la gente condivida dopo buongiorno presente anche giorno wally grande wally grande wally ciao giovanna buongiorno anche a te buon sabato siamo pronti e giorgia spiazza tutti melonia ruota libera che cavolo è successo andiamo a vedere di più in questa pagina del giornale in questa prima pagina targata giornale se ritrovo il mouse vi farò vedere tutto la premier ospite da vespa boccia il mess avete capito la premier boccia il mess replica dura boccia il mess perché perché dice che così com'è non ha senso ratificarlo quindi non ha senso andare a impegnarsi per un mess quando così è una caccata vera e propria replica dura alla glen attenzione qua demolisce la glen noi autoritari e la glen la sinistra non tolera il dissenso la cosa comica che più la glen dice così e più loro guadagnano voti più centrodestra guadagna voti quindi mi sa che la glen stia facendo il gioco di giorgia meloni chiama in diretta la madre di giulia uccisa dal fidanzato femminicidio femminicidi piaghe culturale cosa assolutamente vera intanto abbiamo una notiziona qua che è piccolino come riquadro ma in verità la notizia importante per i lagunari riprendono il controllo i migranti diventano pirati armati dirottano una nave questo è quello che stanno facendo i migranti che arrivano in italia complimenti complimenti che abbiamo al centro attenzione il cavaliere controlli in ospedale le telefonate con gli alleati è ritornato in ospedale silvio berosconi abbiamo al centro il esplode il buonismo lite sui social con l'amico e sui soldi quindi fedez non ma fedez non è quello che è buonisto carino dolce e che fa sempre la morale a tutti e sta discutendo online per dei soldi pensate fedez pensate 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 come diciamo noi in emilia romagna fedez torniamo indietro andiamo a vedere che dice libero attenzione guardate cribbio libero titola così berosconi ricoverato cribbio ci risiamo di nuovo in ospedale silvio berosconi ci dispiace in bocca al lupo alle presidente silvio berosconi forza italia in apprezzione abbiamo al centro meno male la meloni qua la demolisce demolisce la line questo per quello che ho scritto e spiazza tutti e perché l'intervista al forum del governo nella masseria di vespa la meloni meno male che elli c'è meno male una volta si diceva meno male che silvio c'è oggi meno male che elli c'è i premier noi autoritari falso ma più lo dice più vinciamo e l'attacco l'unione europea sul messa e al patto di stabilità gentilone in soccorso della jlane silura l'italia sul pnr gentilone in soccorso della jlane ma che si nascondano queste persone mamma mia mamma mia andiamo anche qua anche qua parla dei 15 clandestini che sequestrano la nave la marina la libera quindi liberata la nave i paradossi sull'immigrazione processo salvini fu la ong a negare aiuto ai profughi andiamo però capire di più perché si parla di questa ong io l'ho messa come titolo principale smascherata la open arms l'ho messa come altro titolo principale andiamo proprio a vedere il tempo su questo articolo guardate smascherata la open arms amici che è successo cerchiamo di capire di più smascherata processo salvini il tempo smascherata la open arms vediamo se riesco a inquadrarlo meglio perfetto così così inquadrato a palermo prime verità sullo sbarco della nave in italia pressioni su merkel e macron l'ong rifiutò ascoltate bene per capire com'è sta gente qua è com'è sta gente che fa tanto la morale poi in verità sono pessimi 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 l'ong che rifiutò il porto in spagna e non prese a bordo i profughi di un'altra imbarcazione ma scusate non è non è l'open arms quella che dovrebbe dovrebbe aiutare la gente avete capito cosa hanno fatto cosa hanno fatto questi falsi monisti intanto all'argo all'argo di napoli cargo sequestrato da migranti intervengono le forze speciali centro pagina immagine inquietante immagine inquietante guardate questo centro pagina vorrei un vostro commento e un vostro pollicione o un vostro un vostro gesto perché roma domani se vestimo tutti arcobaleno meglio così me risparmio le tre piotte di armocromista tre piotte di armocromista guardate che ci sono guardate che facce guardate che facce simpatiche carine dolci gentili la boldrini insieme a lì gilene potrebbe essere forse la boldrini la prossima segretaria del partito democratico ogni dubbio è lecito potrebbe essere lei qualche voce di corridoio ne ha parlato ai 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 a centro abbiamo berusconi torna in ospedale il cavaliere a sarà faele per accertamenti programmati nessun allarme che abbiamo che abbiamo cambiamo quotidiano cambiamo quotidiano e vediamo che dice la repubblica vediamo repubblica sfax orrore all'ospedale nave e nostagione terreno liberato dal marò del san marco guardate 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 immagini drammatiche testimoniano la mancanza di umanità con cui vengono trattate le vittime sui mai fra sui dei naufragi i regimi di sayed contro i migranti a guardate che cosa che cosa tristiamo queste immagini sono tristissime amici veramente tristi abbiamo un piccolo traffritto destra di repubblica guardate forse riusciamo a leggerlo ecco qui è l'isle in ambiente lavoro ecco come battere la destra ma per favore per favore che quando va in tv scappa la gente da scappano dalla messa in onda quando va in tv scappa la gente come vuoi battere la destra come battere la destra cambiare completamente tutti i dirigenti del partito democratico forse potrebbero arrivare a battere la destra ma cambiando tutti attenzione che abbiamo al centro il fatto quotidiano dice manduria caputmundi attenzione meloni e crogetto guerra armi e forze speciali dovrei essere tornato online stavo parlando incredibilmente di stavo parlando incredibilmente delle dello sciopero della famiglia di tuttino contro la guerra e chissà perché sono finito offline ogni dubbio è recito amici stavo parlando delle delle del discorso guerra e delle dell'invio di armi nucleari di di putin e chissà perché è finita online la diretta molto questa cosa è molto strana il ogni dubbio è più che lecito ogni dubbio è più che lecito molto sarà molto strano e chissà perché sono sparito di colpa aspetto i vostri commenti per capire chi siate di nuovo online diretta bloccata stavo parlando stanno bloccando la diretta ho visto stavo parlando di guerra carlo clemente e dell'invio di armi e del referendum e la mia diretta è finita offline dubbio incredibile amici dubbio incredibile e basta basta armi guerra non sento nulla mi sentite mi sentite adesso perdonatemi ma stranamente stavo parlando del referendum contro l'invio di armi contro la guerra e evidentemente qualcosa qualcuno questa cosa non va bene e sono finito offline avevo diversi collegati ed è sparita la connessione vabbè torniamo agli articoli torniamo agli articoli però ogni dubbio è lecito ogni dubbio è lecito continuerà a rimanermi il dubbio perché a questo punto è più che lecito vabbè patto di stabilità ms alto là di meloni per quello che ho chiamato giorgia spiazza tutti perché la premier benedice l'accordo sui migranti marinanza sulle regole europee di bilancio e gentiloni governo non accumuli ritardi lei in attacca la presidente del consiglio si preoccupi del paese prima che vada a sbattere e è il primo duello distanza tra tra le due leader io vorrei vedere faccia faccia comunque sinceramente vorrei vedere le faccia faccia andiamo chiudiamo con l'ultimo chiudiamo con l'ultimo la verità la verità tratta un tema che in pochi trattano però certe cose non si possono dire dice fa la vena ugo è lo so purtroppo è la verità io stavo parlando di ora sblora bloccato bloccato per tre secondi di nero stavo parlando del caro caro claudio della guerra dicendo che c'è questo referendum contro l'invio di armi e chissà perché mi è sparito di colpo tutto non sono dubbi che che chiaramente ti vengono più che leciti vabbè siamo ci siamo di nuovo ci siamo di nuovo ma può davvero condurre un programma in rai damiano rivendica il finto scoop così abbiamo affossato salvini e due giorni l'ex direttore dell'espresso rompe silenzio due giorni dopo no ma non ne dice nulla sul trappolone del metropolo organizzato dai suoi cronisti e scoperto dalla verità e cerca solo di ingraziarsi i fratelli d'italia per blindarsi il posto attenzione perché questo questo scopo è molto molto gravi è luci ombre dell'accordo sui migranti la chiave di tutto rimane la tunisia la novità del ricollocamento in paesi di transito può funzionare solo se si puntella a sayed e domenica meloni e von derleyen portano la prima transce di aiuto all'unione europea poi tocca a fmi la ribuota dei contadini contro il gioco green abbiamo dall'olanda alla francia fino all'irlanda attenzione a proposito di quello che mi appena successo vero che stavo parlando di di noi invio armi e referendum quello che stanno facendo il referendum tuttino gli amici tuttino e mattei attenzione perché mi hanno bloccato la chissà perché la diretta c'è una confessione di zuckemberg guardate confessione di mark zuckemberg proprietario di facebook durante la pandemia facebook ha censurato notizie vere e maddalena loy dice mark zuckemberg creatore di facebook e di meta finalmente ammette durante la pandemia i social hanno censurato anche notizie vere una buona parte delle stas blames ment e lo dico malissimo si è confusa su numerosi elementi fattuali attenzione perché il censore mark zuckemberg in verità non è lui ma hanno fatto l'hanno obbligato a censurare cose vere e la confessione di zuckemberg è vera quindi attenzione attenzione e pensate pensate stavo parlando di guerra del referendum di davide tuttino contro la guerra che sta facendo lo sciopero della fame perché per tutto questo referendum e devono arrivare di mattei lo trovate in rete no alla guerra mattei tuttino devono arrivare a 500 mila firme e chissà perché la mia diretta è caduta clamorosamente quindi ogni dubbio è più che lecito detto questo vi saluto buona giornata tutti condividete vi metterò a questo punto parlerò di questo referendum contro la guerra perché dal momento che lo bloccano a me viene voglia di parlare ancora di più su altri canali su altri canali ciao a tutti buona giornata